E si capocce, anche oggi canotta post allenamento per trattare subito un tema molto ma molto importante ho già visto sui vari social tifosi del Milan che iniziano a dare la propria opinione su possibili assente su come affrontare l'Inter, voglio dare la mia una volta per tutte prima però di iniziare questo video mi raccomando pollice e stenzione, iscrivetevi al canale, tutto gratis offro io per i già iscritti attivate la campanellina ovviamente date un enorme, grandissimo supporto detto questo, allora innanzitutto prima di pensare a possibili tattiche e risvolti positivi, negativi da un punto di vista dell'11 titolare cerchiamo di arrivare al derby con quanti più giocatori sani possibili è ovvio che si parla di sfiga tra virgolette quando sempre prima di una partita contro l'Inter il Milan inizia a perderli tutti a raffica, giocatori importanti però ragazzi è anche vero che è tre anni che il Milan nella grande anche senza contare le grandi di tutti i campionati d'Europa con più infortuni quindi capite bene che non può essere sfiga è sfiga nella misura in cui sempre prima dell'Inter capitano queste cose però è anche vero che il Milan ha enormemente una percentuale infortuni più elevata delle altre squadre quindi nel momento stesso in cui iniziano a infortunarsi anche persone che normalmente mai si infortunano c'è un problema purtroppo io l'ho sempre detto da tre anni espongo, porto questo problema prima con i memici, adesso anche qui su YouTube praticamente ragazzi lo staff del Milan è uno staff di basso livello rispetto a quello dell'Inter per quanto riguarda la preparazione e soprattutto lo staff sanitario per quanto riguarda la gestione di infortuni per quanto riguarda la gestione dei rientri le rigadute eccetera 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 quindi questa è la prima cosa per quanto riguarda ora gli ultimi infortuni, gli ultimi guai diciamo che se l'assenza di Tomori sostituito da Kalulu non mi preoccupava è ovvio che dovesse mancare Kalulu è un grande dito nel culo enorme, enorme perché in quel caso saremmo costretti a far giocare Kier non me ne voglio Kier ma per come Piole ha impostato la tattica di quest'anno per come Piole vuole affrontare le partite per come Milan piace affrontare le partite l'assenza di Kalulu unita a quella di Tomori è un'enorme perdita perché giocando con Kier noi inconsciamente saremmo costretti ad abbassarci 10-15 metri perché Kier per caratteristiche non può coprire praticamente 40 metri di campo e purtroppo mette in crisi tutta la squadra che a questo punto è costretta per mantenere compattezza ad arretrarsi ad arretrare purtroppo Kier dà il meglio di sé quando c'è da difendere quando in qualche modo può coprire e anticipare l'attaccante avversario costantemente spalle alla porta ha fatto prestazioni monumentali contro il Napoli ma perché il Milan lì praticamente giocava coperto contro il Napoli giocavamo già dietro e quindi ha fatto una partita assontuosa contro Simena ha fatto una partita assontuosa contro il Tottenham che doveva recuperare contro il Milan col forcing finale con Kane che praticamente non ha visto palla però quando il Milan vuole fare la gara e il Milan piace fare la gara l'assenza di Calullo unita a quella di Domori è problematica da questo punto di vista anche perché non abbiamo un altro difensore con quelle caratteristiche prima assenza grave ora cerchiamo di capire aspettiamo domani vediamo se domani è la ripresa degli allenamenti dato che Piore ha dato qualche giorno di riposo vediamo se ci saranno Calullo e soprattutto anche Giroud perché Giroud è tornato al Milan è tornato mancherà l'ultima amicavola inutile con la Francia bisogna vedere come il giocatore tornerà perché se domani già Giroud è in gruppo tiriamo un sospiro di sollievo ma qualora domani Giroud dovesse fare differenziato è un grande problema perché quando tu ti fermi una settimana a metà stagione quando sei al top della condizione allora vabbè però quando ti fermi adesso ad inizio stagione quando per i clienti di Giroud non era neanche forse al 70% della condizione perché si vedeva faceva grandi primi tempi poi già verso il sessantissimo arrancava lì è un problema è un problema perché in quel caso io ragionerei diversamente qualora Giroud non fosse veramente al 70% avesse pochi minuti nelle gambe a quel punto prepariamola diversamente la partita perché ragazzi vi ricordo che Giroud deve stare bene per dare un apporto importante Giroud vi ricordo post infortunio contro Kim contro praticamente il Napoli ha fatto quelle 10-12 partite dove purtroppo non abbiamo potuto sostituirlo perché Aurighi prendeva insieme a Rebic il reddito di cittadinanza sdratano apparentemente infortunato praticamente Giroud ha tirato la carretta è stato graziato da non so chi perché non si è infortunato in quel frangente però ragazzi arrancava strisciava le gambe Giroud è un fondamentale uomo squadra uomo team tatticamente importantissimo per il Milan ma deve stare bene deve stare bene quindi in quel caso io dovesse veramente arrancare Giroud non dovesse essere in grado di giocare 30 minuti a quel punto facciamolo entrare dopo facciamolo entrare al 55esimo, 60esimo permettiamogli in qualche modo di far stancare l'Inter di far dare in quegli ultimi 30 minuti finale il massimo a Giroud e in quel caso cerchiamo di tirare Remi in barche e fare il massimo possibile perché per quanto riguarda Giroud ragazzi Giroud fa un lavoro importante deve arretrare deve fare sportellate se Giroud sta bene gli mettono il guinzaglio difensore dell'Inter perché stanno bene loro ok poi per quanto riguarda le altre assenze Teo non preoccupa semplice botta magnanne lavoro di scarico quindi loro non hanno problemi da questo punto di vista almeno che non dovesse succedere l'imponderabile in queste ultime partite per quanto riguarda Jovic ragazzi a me dispiace del fatto che lui sia arrivato solo l'ultimo giorno di mercato quindi non c'è stato neanche il tempo di farlo sedere a tavolino e dire rifiuta la convocazione perché non sei in condizione ragazzi ha fatto test atletici vergognosi avrei preferito che io che ci fosse rimasto in qualche modo due settimane a lavorare con la squadra per integrarsi al meglio negli schemi di Pioli ed essere una alternativa credibile a Giroud quindi magari entrare nell'ordine dell'idea di farlo giocare purtroppo ragazzi ha meno venuti alle gambe di Giroud e non è cosa attualmente di giocare senza neanche essere entrato e aver fatto un allenamento con la squadra quindi questa è l'altra cosa ora parliamoci chiaro l'Inter è più forte del Milan? sì sì assolutamente sì non più forte come gli altri anni sicuramente il livello si è ridotto anche perché abbiamo fatto un mercato importante un mercato che ha portato fisicità un mercato che ha portato acquisti importanti abbiamo delle lacune purtroppo in squadra il terzio destro ok soprattutto il play che non abbiamo perché per la sera è infortunato quindi Cruyff attualmente si è dimostrato all'altezza però è difficile affrontare l'Inter senza un doppio play noi non lo abbiamo questo doppio play loro lo hanno quindi da questo punto di vista siamo oggi ad oggi più deboli dico ad oggi perché l'Inter vanta tra virgolette un 11 titolare tra diciamo dei 22 sono più completi loro in tutti i ruoli noi in questo mercato siamo riusciti a portare varie alternative dalla banchina che possono cambiare ritmo come Okaforre come Shukwez attualmente giocatori importanti come lo stesso Jovic Musa giocatori con il cambio ritmo però loro nei 22 ecco esce Banfris entra quadrato discorso visto il ritrito e il ritrito esce Di Marco entra e Augusto sono più coperti in più ruoli esce Gier scusate esce De Vrij entra Cerbio viceversa da questo punto di vista sì sono più completi però rispetto al passato noi il gap sicuramente è diminuito come affrontare l'Inter sono felicissimo che Pioli o l'anno scorso c'è il video potete vederlo voi stessi della partita mi sembra fosse la seconda dell'anno contro il Sassuolo ho detto è inimmaginabile poter stare col 4-2-3-1 pesante e supportare Leao Brandiaz Messias Giroud quindi sono tra i primi sostenitori del 4-3-3 sono felicissimo che Pioli abbia scelto questa via lo avevo anche detto con l'Inter affrontiamoli con un centrocampista in più non possiamo pensare di affrontarli in quella maniera infatti abbiamo preso praticamente il pisello in ogni partita possibile ok tranne la prima partita dell'anno dove stavamo meglio stavamo in qualche modo eravamo più freschi mentalmente stavamo da Dio siamo riusciti veramente a metterli sotto un derby che magari poteva finire con più gol di scarto rispetto a quel 3-2 finale perché abbiamo operato tanto perché veramente eravamo in gamba però poi sempre al sessantesimo abbiamo tirato un remi in bar che eravamo stanchi l'Inter ha rischiato anche di pareggiare la partita adesso sono felicissimo per me il 4-3-3 è il miglior modulo possibile per cercare di schermare il centrocampo e il doppio play dell'Inter soprattutto perché vantiamo gente con una fisicità importante come l'off-to-cheek come renders gente che può fare il box-to-box in maniera importante speriamo che Kruic possa fare quello che ha fatto nelle precedenti partite io non chiederò mai a Kruic che mi faccia il lancio di 290 metri chiedo però che sia ordinato e in qualche modo importante da un punto di vista difensivo e che non faccia perdere troppi tempi di gioco perché purtroppo ragazzi quello che mi fa provendere per un Kruic non all'altezza del 4-3 perché comunque Kruic ci fa perdere tempi di gioco ora lasciamo stare le partite le abbiamo vinte ha fatto anche interventi difensivi importanti però per quanto riguarda l'impostazione magari si vede a volte gira troppo su se stesso tocca troppe volte la palla noi serve un calciatore alla Berasser che subito prende palla e la smista rapido veloce e in maniera sicura detto questo fatemi sapere voi cosa ne pensate della tattica della insomma di questo pre-derby fatemi sapere come voi affrontare l'Inter se siete d'accordo con quello che farei io o meno quindi mi raccomando pollice in su ragazzi commentate è importante così cerchiamo di in qualche modo fare uno scambio costruttivo perché magari voi potete dare spunti per successivi video e così via iscrivetevi al canale ragazzi speriamo di arrivare al derby nelle migliori condizioni possibili bella raga grazie